Sabato e domenica, ventunesima edizione della giornata FAI di Primavera, numerose l'iniziativa in tutta Italia per riscoprire le molteplici e qualche volta dimenticate bellezze artistiche e paesaggistiche del bel paese. A Caltanissetta l'attenzione è puntata sull'itinerario dedicato alle opere di Vincenzo Rogeri, pittore nel seno del Seicento, le cui tele si potranno ammirare sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 18 nel Museo Diocesano e nelle chiese Santa Maria la Nova, Sant'Agata al Collegio e San Domenico, mentre domenica occorrerà fare qualche chilometro per andare in visita alla chiesetta di Santa Germana di Contrada a Turolifi. Siamo molto contenti di questa partecipazione perché oggi a Caltanissetta, in questo piccolo centro, si vede la collaborazione fattiva di tre enti, ciascuno per la sua parte con obiettivi specifici. L'itinerario dedicato alla pittura di Vincenzo Rogeri rientra nel progetto museo diffuso, promosso dal Museo Diocesano di Caltanissetta in collaborazione con l'Università di Catania. Sicuramente le tele sono state viste e riviste perché sono tele ubicate nelle chiese più importanti di Caltanissetta, però sicuramente mai nessuno ha prestato attenzione al fatto che queste tele possono avere una importanza determinante, che possono comunque testimoniare il 600 Nisseno con queste tele che sono veramente belle.